Grave incidente questa mattina alle 9.15 sull'autobrennero all'altezza di Rivalta in provincia di Verona vicino a Davio. Dopo lo scoppio del pneumatico anteriore destro un camion è finito fuori strada sfondando il garreile finendo nella rampa sottostante. Il grosso mezzo pesante ha terminato la propria corsa nella campagna perdendo il carico. Il conducente è stato poi soccorso e trasportato in ospedale sul posto l'ambulanza, la pulizia stradale e gli ausiliari del traffico dell'A22 oltre ai vigili del fuoco di avio che si sono occupati della messa in sicurezza del mezzo pesante e verificato che non vi fosse sversamento di carburante. Il carico trasportato, carta di vario genere finito nella campagna, non avrebbe causato grossi danni al terreno. L'autista del camion che è riuscito ad uscire da solo dal mezzo non avrebbe riportato lesioni gravi.